E' un bello lì, ciao a tutti da youtuber Max Officer Ho deciso di portarvi al secondo posto dove potremo fare il famoso Raduno del Seicento Non è qui, questa è solo la via d'apertura, non posso riprendere più avanti perché c'è il nome E vabbè, comunque sia, entriamo da questa parte Non quadro solo il sentiero perché voglio, come si dice, farvi vedere la sorpresa alla fine E rispetto all'altro parco direi che questo, beh, insomma, giudicate voi, che ne dite di qua? Meglio fare il Raduno qui? Non lo so, ditemelo nei commenti per favore Questo è l'altro posto in cui potrei fare il Raduno Non lo so, ditemelo voi, ok? Bene Voilà, ciao, bello E con questo è tutto E' un video piccolissimo, era solo per farvi vedere il posto in cui avrei potuto fare il secondo Cioè il secondo posto in cui avrei potuto fare il Raduno Però, ragazzi, decidete voi Qui sono venuto in macchina, vabbè, a parte tutto che ho calcolato che non è molto distante dalle stazioni C'era 4 minuti a piedi Quindi non 10 minuti Però il parco l'avete visto Adesso se volete ve lo rinquadro un'altra volta da un'altra angolatura Però, non so, vedete voi Ditemelo nei commenti se preferite là al primo posto oppure qua Ma ciò non toglie che dopo il nostro incontro ci sarà un bel aperitivone al bar con tutti voi, ok? Dovevo inquadrare di nuovo Così almeno, eh? Eccolo qua Questo è un altro tipo d'angolatura Ok Poi va tutto dietro qua Adesso ritorno da questa parte che devo fare un altro angolo Eccolo qua, così E vabbè, niente, dite voi Va bene Ok, basta così dai Con questo è tutto, l'Utuber Max Officer vi saluto e vi ringrazio E una bella idea a tutti Mi raccomando, scrivete nei commenti se preferite il posto A Cioè nel video che ho pubblicato prima di questo Oppure questo posto che vi ho fatto vedere adesso La località non ve la dico adesso Ve la dirò a 595 Ok? Quindi questo è quanto Grazie ancora per il vostro supporto, la vostra vaccinanza E un bella lì da Youtuber Max Officer Grazie a tutto il team Youtube E a voi colleghi Youtubers Ciao, bella lì Ciao ciao